Bella a tutti ragazzi, sono il vostro TheDead, bentornati nel mio canale. Come sempre questi sono i miei ultimi acquisti e partiamo dalla nuova generazione e in questo video, a differenza dello scorso, ci sarà anche il vecchiume. È tornato! Dopo aver approfondito un po' la saga di Mass Effect su Xbox 360, di fatti il video scorso avevo comprato la trilogia, ho ovviamente preso per PlayStation 4 Mass Effect Andromeda e l'ho preso su Base.com ad un ottimo prezzo. Ci sto giocando, mi sta piacendo, però è proprio vero che i modelli poligonali dei personaggi, per non parlare dei bug poi di questo gioco, sono veramente fatti molto molto male. C'è proprio stato un downgrade incredibile rispetto alla qualità dei giochi precedenti, però le ambientazioni sono fighe, il gioco mi sta piacendo. Non so se lo finirò a dire il vero, non lo sto trovando tanto interessante, però lo dovevo provare a un prezzo irrisorio, ho fatto che prenderlo. Idem per la saga di Assassin's Creed, non compro un Assassin's Creed probabilmente dal terzo capitolo, penso. Avevo voglia di riprendere un po' quello che avevo dimenticato, anche un po' per noia personale ovviamente per quanto riguarda la saga, quindi ho preso l'Origins a 24€ usato da GameStop. Sì, mi sta piacendo, bellissimo graficamente, ci sono state fatte anche diverse novità, soprattutto nei combattimenti e nelle cose in cui si possono fare all'interno dei classici Assassin's Creed. Mi sta piacendo, vediamo se lo finirò o lo continuerò, perché lo avevo già mollato proprio per la sua ripetitività. È un po' diverso questo Origins, però non mi ha ridato sensazioni interessanti, anzi mi ha fatto tornare indietro nel passato quando giocavo ai primi Assassin's Creed e la pasta più o meno è sempre quella. Ma parliamo di vacuum che è meglio. Pochi giorni fa mi è arrivato God of War 2 per PlayStation 2 in versione coreana, come sapete io colleziono anche versioni coreane e brasiliane dei giochi e ho trovato questa bella copia di God of War 2 su Ebay, ho fatto che prenderla ovviamente perché mi interessava tantissimo. Adoro le versioni coreane, è un mercato molto strano e molto molto particolare per quanto riguarda tutti i giochi usciti in territorio coreano. Poi mi è arrivato, grazie ad un mio amico brasiliano, una vera e propria chicca ragazzi, questo è Mega Man X4 per Sega Saturn in versione tech toy brasiliana che ho prontamente sigillato per preservare perché ragazzi Mega Man X4 in versione brasiliana è veramente raro da trovare e sono molto molto contento finalmente di essere riuscito a trovare una copia di questo gran gioco. L'X4 mi sta piacendo, ci sto giocando ovviamente, ho anche una copia per poterci giocare ed è bello, le musiche sono veramente fighissime del 4, è un gioco molto fatto molto bene. Per quanto riguarda invece il fratellino Sega, ho comprato ad un mercatino DJ Boy, è un picchiaduro a scorrimento su pattini, diciamo una versione beat'em up di Roller Games, è un bel titolo, però la conversione della versione arcade non è proprio eccezionale, non mi è piaciuto tantissimo e sempre per Mega Drive, grazie ad un altro mio amico, ho finalmente preso Sunset Riders in versione Mega Drive, questa è la versione Genesis americana, ottimo prezzo e devo dire che la versione di Sunset Riders per Genesis è davvero bruttarella rispetto alla versione per Super Nintendo da cui ha praticamente preso niente, anzi hanno tolto addirittura due personaggi giocabili, le ambientazioni sono diverse, i livelli cominciano e finiscono in modo diverso, non ci sono varie modalità di armi che si possono ottenere nel gioco, insomma è una versione proprio brutta rispetto a quella per Super Nintendo e non ho capito perché la Konami fece questo grosso errore a quei tempi, però la versione Mega Drive di Sunset Riders è veramente brutta, quella per Super Nintendo invece è spettacolare ed è quasi diciamo uguale alla versione arcade. Ho poi fatto uno scambio con un utente di Facebook che mi segue anche qui sul canale e che lo ringrazio, gli ho dato un Super Nintendo, in cambio lui mi ha dato questo bellissimo Mega Drive cinesissimo, ma questa è la versione HDMI, ovviamente non ufficiale, del Sega Mega Drive ed è veramente veramente bello perché la qualità visiva portata in HDMI è realizzata bene, nonostante sia un modello cinese, questa versione qua ovviamente ha le stesse forme come vedete del classico Mega Drive, solo che sul retro c'è la presa HDMI oltre alle classiche prese del Mega Drive, realizzato bene, leggerissimo perché ovviamente la componentistica dentro è ridicola, però funziona molto bene, legge i giochi americani e giapponesi, purtroppo non ha compatibilità con i giochi pallo dovuto farcene una ragione, neanche con gli adattatori funziona, quindi probabilmente all'interno ha un sistema diverso comunque rispetto al Mega Drive originale, però qualitativamente collegato in HDMI devo dire che si vede piuttosto bene e ha ben poco da invidiare, i classici Retron 5 o comunque Raspberry Pi, insomma qualsiasi cosa voi utilizzate, roba vecchia su HDMI, questo prodotto si comporta molto bene, se siete interessati lo potete trovare sui classici siti cinesi, Aliexpress, Banggood e così via, e non ve ne pentirete perché è un prodotto molto valido. Mi sono poi arrivate due versioni fighissime per Master System, non colleziono tantissimo Master System anche perché da piccolo non lo avevo, lo avevo un mio amico, io avevo il Nintendo NES, però queste edizioni non ho potuto farmele sfuggire perché erano veramente troppo interessanti a livello ovviamente collezionistico e parlo delle versioni brasiliane dei giochi Master System che sono cartonate ed è una cosa veramente fighissima che le versioni brasiliane sempre della TechToy, sono appunto in versione cartonata, ho preso Outerun che è molto bello ovviamente, non è come la versione arcade, e l'immancabile Alex Kidd in Miracle World che è una chicca per Master System, questo è uno dei platform più belli che appunto su Master System si poteva trovare, anche questo ovviamente in versione cartonata, sopravvissuto perché chiaramente sono versioni già abbastanza difficili da trovare così, figuriamoci in versione cartonata, sono fragilissime, ma sono molto contento, sono due giochi tra l'altro molto belli. Ho poi acquistato sempre su eBay un po' per curiosità, sinceramente non sapevo fosse uscito anche in versione Sega PC tra i Dirty Dwarves che è un platform a scorrimento beat'em up, molto figo e molto sottovalutato ed è inizialmente uscito su Sega Saturn, lo avevo già giocato un paio d'anni fa, poi ho visto che era uscito anche su PC e ho detto cavoli interessante al prezzo che veniva proposto, nuovo sigillato per 20 dollari, ho detto va bello acquistiamolo, voglio provare e mi è arrivato giusto stamattina, lo proverò, non mi aspetto che sia ovviamente diverso dalla versione per Saturn, teoricamente le versioni PC dei giochi ai tempi erano lievemente migliori, visto che non avevano limiti per così dire di hardware, però il gioco ovviamente essendo un action beat'em up a scorrimento in 2D non è che abbia bisogno di chissà che cosa, però ero curioso più che altro del fatto che era uscito anche su PC, un gioco così che in pochi diciamo solo sono cagati ai tempi, e il gioco comunque è molto bello, ha un sistema di vite molto molto particolare e molto unico. E per finire ragazzi, per tornare sempre al Saturn, tre chicche veramente veramente rare, ho acquistato molti giochi in questi anni per giocarli ovviamente o per collezione, ma questi giochi qui è veramente veramente difficilissimo riuscire ad reperirli, sono stato molto molto fortunato, parlo dei giochi per Saturn, ma Samsung Saturn, questi titoli qua ragazzi usciti esclusivamente in Corea, sotto licenza della Samsung, perché il Saturn in Corea era sotto licenza Samsung, non era sotto licenza Siga, e comunque sono riuscito a recuperare Viltro Fighter Kids per Samsung Saturn, Segarelli e Nights into Dreams, titoli molto fighi, ma in versione coreana per Saturn sono veramente 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 difficili da trovare e ringrazio tanto un mio amico che vive e abita in Corea, che grazie a lui sono riuscito a reperirli, sono molto molto soddisfatto e questi titoli sono comunissimi in versione giapponese, ma in versione per Samsung Saturn coreano sono veramente veramente difficili da trovare e non si vedono praticamente mai, pochissime persone li hanno questi titoli qua e sono onorato e fortunato comunque di essere uno tra i pochi che ha giochi per Samsung Saturn, giusto per collezione, ovviamente non li giocherò perché già li conosco. Bene ragazzi per questo video è tutto, spero che i miei video acquisti vi siano piaciuti, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanellina qui sotto nella descrizione e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video, ciao!